Salve a tutti ragazzi, qui è Chankeyparla e benvenuti in questo nuovissimo video in cui vi porto un piccolo ordine, diciamo, sì è piccolino, che ho fatto da Car Game Club Cosa ho ordinato? Alla potete vedere benissimo dallo sfondo che ci sono innanzitutto i due mazzi di X e Y uno di Xernia, uno di Veltal, tre bustine di l'eredità del Valoroso, di Yu-Gi-Oh sì perché era da tanto che non aprivo Yu-Gi-Oh, poi ci sono state un bel po' di persone che me l'hanno richiesto e quindi ho detto vabbè dai ne prendo tre, ecco sì quindi queste sono diciamo le cose che aprirò, ovvero tre bustine di eredità del Valoroso mazzo di Veltal, mazzo di Xernia, poi cosa ho preso? Alla questo porta deck, porta mazzo diciamo che è un rosa, sì, è rosa, che non lo apro per ora, mi serve e in più due pacchi da 50 di sleeve appunto rosa che mi servono per il mazzo che mi voglio fare di Xernia se prendete ho già pronta la decklist, mi mancano solo le carte e poi queste, delle sleeves, un pacco di sleeves decento rosse che mi servono per le holo di XY bene ragazzi, quindi questo è un po' il video di presentazione ah, mi sono scordato un'altra cosa, ho preso il raccoglitore quello grande della Ultra Pro, quello ad anelli con 20 fogli dentro, ma per ora non ricordo dove l'ho messo ah, e poi dopo aver comprato quello, la stessa giornata che li ho ricevuti vabbè, innanzitutto è stato un ordine di Lega, quindi il link del capo Lega è in descrizione appunto, stesso giorno che sono andato in Lega a prendermeli, c'era un torneo abbiamo fatto questo torneo e ho vinto un altro mazzo, lol è quello di Iveltal, quindi ce l'ho doppio ma ho trovato già a chi venderlo peccato che non ha niente di tanto buono vabbè, poi vi farò vedere meglio nel video quindi ragazzi, questo è tutto, mi raccomando un bel like e non perdetevi le prossime aperture questo è tutto da Char, ciao a tutti ragazzi